è mai possibile provare tanta pena per un oggetto così piccolo signori buongiorno e bentornati sul canale del master k io sono il master k il vostro ospite su questo canale andiamo avanti con la nostra serie estiva sul modellismo e questa settimana andremo a concentrarsi sulla realizzazione dei mattoni che faranno da in realtà saranno la parte più importante dell'intera struttura perché ne definiranno totalmente l'estetica non vi nascondo questa è stata la parte più lunga dell'intero processo di costruzione però posso dirvi che nel video di questa settimana avremo inaspettatamente un numero musicale per texturizzare i mattoni vi servirà una lattina d'alluminio con il relativo tappo in più della ghiaia dei sassolini questa è ghiaia ornamentale che uso per fare le basette delle miniature ma in realtà va bene anche la ghiaia che trovate per terra più magari qualcosa di più grosso qua userò dei dadi potrete usare semplicemente dei sassi mettete la ghiaia dentro la lattina cercando di non buttarla per terra ovviamente come vedete bella piena poi prendete i mattoni che avete ritagliato e metteteli dentro la lattina non riempitela fino all'orlo anzi devono deve esserci spazio perché i mattoni possano muoversi liberamente diciamo riempitela fino a metà aggiungete i dadi chiudete bene e a questo punto dovete prepararvi per il concerto se vi state domandando quale concerto questo avete assistito una sonata per polistirolo e barattolo adesso che avete shakerato il tutto i mattoni saranno stati texturizzati come vedete adesso non sono più lisci rovesciate il tutto io ho usato delle scatole in realtà semplicemente per non far andare la ghiaia per terra poi separate i mattoni anche perché sia i dadi che la ghiaia vi serviranno per texturizzare tutti gli altri dato che ho detto non riempite il barattolo probabilmente dovete fare due o tre tranche di serenata per barattolo e polistirolo come vedete adesso i mattoni sono molto texturizzati ma proprio facciamo un esempio lampante questo è un mattone che non è ancora stato passato nel barattolo questo invece è un mattone che ne è appena uscito come vedete la texture adesso è evidente e sarà appunto il fatto che la superficie sia rovinata una volta dipinto a dagli un effetto pietra prima di passare a incollare i mattoni però dobbiamo finire la struttura e in questo caso vuol dire incollare sia i gradini che il pavimento superiore a seconda di cosa state costruendo potrebbe non essere una buona idea incollarli prima nel mio caso lo è stato valutate se lo è anche nel vostro comunque qua niente di trascendentale semplicemente i gradini che abbiamo costruito nello scorso episodio una volta che si saranno asciugati fateli asciugare sotto qualcosa di pesante tipo l'intera vostra collezione di manuali di Dungeons and Dragons in modo che siano ben piatti poi con la colla a caldo mettete un po' di colla sui bordi attaccate lo scalino e poi premete bene diciamo è probabilmente questo di tutti i passaggi che dovrete fare per il video è quello più semplice non preoccupatevi del fatto che si vedano i bordi che non ci sia texture sui bordi perché tanto tutto verrà poi coperto dai mattoni in seguito quindi l'unica cosa che si vedrà sarà la superficie e poi un minimo di parte frontale dello scalino ma come abbiamo già visto basta mettere delle linguette in modo che la carta si avvolga intorno e il gradino sembrerà poi un blocco unico una volta dipinto non è un lavoro difficile basta solo avere un po' di pazienza e restando in tema di pazienza arriva finalmente il momento di incollare i mattoni ora come vedete qua nel filmato io sto tagliando i mattoni a metà questo perché dato che io ho messo una struttura rigida sotto non c'è bisogno che i mattoni si vedano da entrambe le parti e anzi il lato interno del mattone resterà appiccicato contro il muro di cartone quindi non si vedrà mai per lavorare più velocemente a risparmiare tempo e a risparmiare passaggi dato che tanto la parte interna dei mattoni semplicemente non serve che sia texturizzata io mi sono limitato a fare i mattoni spessi praticamente un pollice e mezzo cioè più di quello che mi serviva effettivamente per ricoprire la base e poi li ho tagliati a metà e ho incollato i mattoni lasciando la parte texturizzata verso l'esterno e la parte tagliata che quindi è piatta e quella su cui ci sarà la colla e andrà a appiccicarsi al muro questo è un trucchetto molto semplice ovviamente però lo potete fare solo se come in questo caso i mattoni saranno visibili solo da una parte se state effettivamente creando dei muretti o se magari l'interno della struttura dovesse rimanere visibile in quel caso dovreste fare tutto il mattone il che vuol dire che poi dovete preparare il doppio dei mattoni o per meglio dire in questo caso io mi sono limitato a preparare la metà dei mattoni rispetto a quelli che erano necessari per ricoprire l'intera superficie della torre ora aggiungiamo un'altra cosa i mattoni io quando li ho costruiti li ho costruiti tutti esattamente identici anche se in realtà non mi serviranno tutti identici anzi alcuni mattoni dovranno essere poi tagliati e sagomati per adattarsi alla struttura vera e propria la struttura per esempio è curva i mattoni sono quadrati quindi se mi fossi limitato ad appiccicarli uno a fianco all'altro semplicemente gli spazi tra un mattone e l'altro sarebbero stati enormi quindi per la maggior parte dei mattoni sul bordo ho dovuto poi tagliare una parte degli angoli interni in modo che i mattoni fossero più allineati tra i loro i mattoni che andranno poi sulla parte superiore per esempio quelli che andranno a coprire i bordi dei gradini ovviamente dovranno avere una scanalatura in cui il bordo del gradino si infila in modo da coprire la parte laterale che effettivamente è brutta da vedersi potenzialmente potrete creare i mattoni singolarmente prima ma questo vorrebbe dire tutto un lavoro di andarli poi a cercare a ricordarsi esattamente quale mattone è stato pensato per essere insilito nel quale posto preciso diciamo che allungherebbe i tempi di lavoro a dismisura quindi man mano che voi attaccate i mattoni quando vi serve un mattone dalla forma particolare semplicemente prendete la taglierina e sagomatelo in base alle vostre necessità questo potrebbe portare al fatto che alcuni mattoni poi non saranno texturizzati da qualche parte perché avete tagliato via una parte texturizzata questo di per sé non è un problema tenete sotto mano la ghiaia o i sassi che avete usato per fare la texturizzazione con il barattolo e semplicemente la parte del mattone non texturizzata che però sarà visibile quindi deve essere texturizzata premetela un po' di volte sbattetela proprio sulla sabbia in questo modo si texturizzerà è molto più veloce andare poi a texturizzare a mano singolarmente tutti quei piccoli mattoncini che avete dovuto sagomare volta per volta che andare a creare mattoni su misura fin dall'inizio altro consiglio personale mentre le immagini vanno create più mattoni di quelli che ritenete effettivamente vi serviranno questo da una parte perché è molto facile sbagliare i calcoli soprattutto quando poi i mattoni verranno tagliati e risagomati vi risparmia il lavoro di dover rifare tutto magari dovete ritirare fuori il polistirolo ritirare fuori il barattolo magari solo per fare cinque mattoni che vi servono dall'altra perché questi mattoni sono comunque di polistirolo quando arriveremo alla fase di pittura vi spiegherò anche come fare a renderli un attimo più resistenti a come proteggerli ma fin tanto che state lavorando a questa fase cioè l'incollaggio state lavorando con dei pezzettini di polistirolo potrebbero rompersi potrebbero spaccarsi anche solo inadvertitamente potreste lasciare il solco di un'unghia sopra una superficie che lo rovina per cui mettete in conto che non ogni singolo mattone ma ogni 10 15 mattoni che fate probabilmente ce ne saranno uno o due che poi dovrete scartare buttare cosa magari non necessaria se create come vi dicevo più mattoni di quello che pensate che vi servano quelli che vi avanzano potete o metterli da parte per un altro progetto oppure semplicemente incollarli tra i loro e creare un piccolo muretto che sono una di quelle cose che indipendentemente da cosa fate serve sempre vi serve avere una barricata improvvisata mentre fate un wargame vi serve avere qualcosa per indicare che c'è una parete c'è un muro magico quello che è mentre giocate di ruolo questo è proprio uno di quei casi in cui non dovete preoccuparvi avere degli eccessi perché riciclate tutto anzi io dopo aver fatto questo progetto ho avanzato talmente tanto polistirolo che probabilmente il progetto non dico è l'anno prossimo ma molto probabilmente mi metterò a breve a costruire una serie di muretti per il wargame anzi fatemelo sapere nei commenti se siete interessati magari potrei farci anche un video due a riguardo perché davvero praticamente un intero un altro barattolo come quello che ho usato per fare lo shakeraggio pieno di avanzi di polistirolo e in qualche modo voglio usarli scusate questa digressione ma intanto come vedete le immagini stanno ancora scorrendo questa è stata probabilmente la parte più lunga in assoluto del progetto per incollare ogni singolo mattone ci avrò messo una serata buona diciamo probabilmente 4 o 5 ore a voler fare il lavoro preciso per quanto però il lavoro sia lungo l'effetto finale se posso essere un critico di me stesso risulta effettivamente molto molto gradevole già così dall'effetto di una vera e propria struttura di pietra e adesso molte ore dopo potete vedere qual è l'effetto finale tutto è ricoperto da mattoni come vedete non sono regolari soprattutto quelli in cima in modo per dare un aspetto più organico e settimana prossima passeremo alla pittura non so quanti di voi effettivamente si dedicheranno al progetto ma voglio sapere quanti di voi hanno passato un'intera giornata dalla propria vita a ritagliare questi mattoncini io fondamentalmente ne ho alla nausea e non avete idea di quanto materiale abbia avanzato comunque scrivetemelo qua sotto nei commenti e scrivetemi anche se avete eventuali domande dubbi perplessità come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta cresce il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella per ricevere notifiche in descrizione trovate i link al server di discord al gruppo i telegram in cui io pubblico manualmente l'uscita di ogni video perché so che c'è problemi a ricevere le notifiche da youtube mettiamola così per il resto io sono il master kai e noi ci vediamo nel prossimo video ciao